avrebbe preteso che compisse furti in particolare scippi per suo conto che gli fornisse 500 euro al mese qualora si fosse rifiutato di compiere i furti per questo il 17enne sfinito dalle continue richieste temendo per la propria vita e quella della sua famiglia avrebbe esploso nel tardo pomeriggio di ieri alcuni colpi di pistola nei confronti del 21enne nicola di rienzo con precedenti penali per reati contro il patrimonio il delitto è avvenuto nei pressi di un giardino pubblico proprio vicino ad una chiesa cittadina in via saragat il 17enne incensurato subito dopo il delitto si è presentato in questura foggia dicendo di aver ucciso di rienzo in un primo momento si era pensato ad un movente passionale poi nel corso dell'interrogatorio con il sostituto procuratore gianna maria nanna il minorenne avrebbe raccontato che di rienzo pretendeva che rubasse per lui e che gli consegnasse i proventi dei furti altrimenti sarebbe stato costretto a consegnargli 500 euro al mese il 17enne ha inoltre raccontato che di rienzo lo avrebbe più volte minacciato minacce estese come detto anche alla sua famiglia secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di foggia erano giorni che il 17enne rifiutava l'appuntamento con il 21enne nicola di rienzo il minorenne dopo aver ucciso il 21enne colpendolo al torace e alla schiena con il suo scooter si è recato in questura dove si è costituito ieri pomeriggio ha raccontato agli inquirenti che ha incontrato di rienzo ma temendo che il 21enne lo accoltellasse è andato all'appuntamento con una pistola che ha detto avrebbe trovato in una campagna durante l'incontro i due avrebbero avuto una discussione il 17enne avrebbe mostrato la pistola solo per intimorirlo di rienzo avrebbe tentato di sottragliela c'è stato poi un inseguimento per un centinaio di metri durante il quale il 17enne ha esploso i colpi di pistola ferendo così a morte il 21enne